Benito Mussolini, denti da piragna per la potenza della sua parola, Augusto Pinochet, prigioniero del suo potere, Adolf Hitler, uno specchio rotto fra le fiamme. Sono i volti dei grandi dittatori, nell'opera di Diego Andrea Ceccoli, per i 15 anni del Museo dell'Emigrante. Un'iniziativa che promuove il legame con le giovani generazioni e la loro capacità espressiva, detto il segretario Antonella Mularoni, nel museo che è di tutte le famiglie sammarinesi. Un tema significativo, poi, per un paese che ha sempre evitato i totalitarismi e in ambito internazionale si batte per il rispetto delle libertà. La violenza e il totalitarismo, commenta il direttore del Museo dell'Emigrante Patrizia De Luca, ma anche il ruolo che ognuno di noi ha nella storia. Proprio da qui parte il giovane artista sammarinese d'Argentina, 26 anni, con i mostri che tutti noi, dice, siamo stati. Questo regime totalitario è solo possibile con la complicità di un popolo. Se non c'è questa complicità, non sarebbe stato Hitler, non sarebbe stato Mussolini, non sarebbe Stalin in questo caso. Credo che sia importante non dimenticare, perché quando un popolo dimentica il suo passato, questo può tornare. Su tutti, Jorge Rafael Videla, il suo potere basato sulla propaganda, responsabile della scomparsa di 30.000 argentini, i Desaparecidos, e proprio a loro dedicata all'unica opera senza nome, Il Mancante, uomini ai quali è stata tolta l'identità.